Salve! Benvenuti all'IQ Robote! Signore e signori, siete pronti per vedere la grande novità? E ora ecco a voi il nuovo Gen 6! Io ti amo, Justin! Grandioso! Tu preferisci robot a me. Come tesoro? Tutti i bambini devono essere accompagnati da un adulto. Ora venga con me, signorina. No! Wow! Ciao! Beh, magari potremmo diventare amici. Questa sera starai qui. Non tu, Momo. Lo sapevo. Mi stai giudicando, fratello? Averti qui è la cosa migliore che potesse accadermi. E hai inserito delle armi in un robot. Sta per succedere qualcosa di terribile. Santa, madre dei toast. 7723 è la nostra unica speranza. Il mondo è pieno di ingiustizie. E insieme possiamo eliminarle. Promesso, ti copro le spalle. No! È davvero forte. Come l'hai chiamato? Amico mio. Grazie per avermi aperta. Ora però sta attento perché mi sto per richiudere. Sìììì!